La notte è dei vandali. A Sant'Anna spaccano la vetrata degli scavi. Alla piscina comunale spaccano per sburare cassaforte senza soldi. Comune, la crisi è finita? Tra Brucchi e la Civica oggi il chiarimento. Bisogna riavvicinare il palazzo alla città. Teramo Ambiente, il Partito Democratico attacca. Con un consiglio di amministrazione di soli uomini sono nulli, tutti gli atti adottati. Corropoli cerca fortuna al bingo e invece trova i carabinieri che lo arrestano. Era latitante. Giulianova, Via Treviso, promessa mantenuta. I titolari dell'unica attività hanno deciso. Lavori al Via Lunedì. Sport Calcio, il Teramo in attesa di Grosseto. Oggi fa il tifo per l'Aquila che prova a fermare la capolista Ascoli. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. In questa prima edizione delle ore 14, un'altra notte di ordinaria follia a Teramo. Vandali in Piazza Sant'Anna, ladri alla piscina comunale. Il giorno dopo si contano i danni e si recrimina su strutture e quartieri alla Mercedes, considerati ed incivili protetti nel loro anonimato dall'assoluta mancanza di sistemi di videosorveglianza o di controlli. Il servizio. Un'altra notte di raid vandallici a Teramo, tanto libera e la città per potersi sbizzarrire in danneggiamenti e violazioni delle norme del vivere civile. Piscina comunale e scavi archeologici di Piazza Sant'Anna sono stati gli obiettivi presi di mira. Ma mentre nel secondo caso si è trattato forse di una bravata che ha fatto andare in frantumi una delle grosse vetrate della copertura degli scavi, nel primo, alla piscina coperta del compresso sportivo Acquaviva, si è trattato di un vero e proprio furto con scasso. Il secondo dopo quello del giorno dell'Epifania. I gnoti hanno infatti agito usando addirittura una mola, oltre ai classici arnesi, per forzare gli ingressi e si sono divertiti sulle strutture spaccando perfino le apparecchiature automatiche delle docce e degli asciugacapelli per poter rubare le monete custodite all'interno delle gettoniere, circa 300 euro. Gli uffici hanno anche sburato e portato via una cassaforte, dove però non c'era nulla. I danni ammonterebbero in totale a circa 1.500 euro. Sui due episodi indaga la polizia. A Sant'Anna, dove l'aria è stata transennata e si è provveduto alla tamponatura momentanea del buco, i residenti sono stufi. Manca un qualsiasi sistema di controllo di questa piazza, dicono, e qui registriamo spesso episodi di violenza e di danneggiamento. Il giorno di Capodanno, i gnoti spaccarono la vetrina del ristorante I Grati di Bacco per rubare, e qualche giorno prima la stessa zona fu teatro di una violenta rissa, che in terra lasciò evidenti segni, con sangue dappertutto. E di questa scorribanda notturna paga ancora una volta le conseguenze la piscina comunale, già visitata da ignoti appena una decina di giorni fa. Anche stavolta gli arnesi utilizzati sono stati pesanti per fare danni e rubare poche centinaia di euro. Anche in questo caso i gestori lamentano una persecuzione. Sentiamoli. Furto con scasso alla piscina comunale di Terra. Non ne parliamo con il professor Donato Colangeli, addirittura sono arrivati con una mola per entrare. Praticamente questi hanno sfondato la porta, ha rotto con un istintore i vetri, antisfondamento praticamente, e hanno rubato tutto, arrazzate tutte le parti, non solo, ma tutti gli spogliatoi. Tutti gli spogliatoi. Rubato cosa? Rubato tutto. E i soldi, soldi spicci, qualsiasi cosa che hanno trovato. Noi avevamo dei soldi del fondo... E quanto ci poteva stare? Beh, quando ci poteva stare? Adesso dobbiamo quantificare. Adesso dentro alla gettoniera dei fonne, come si chiama, delle docce, non possiamo quantificarli perché noi non abbiamo la gestione. Però sappiamo che adesso abbiamo richiuso tutto con uno scotch, ma momentaneamente, provvisorio, per poter fare l'attività questa mattina, altrimenti non potevamo farla. Però poi altri soldi del fondo cassa giustamente sono spariti. È stata anche colpa nostra lasciarci, che noi generalmente non lasciamo queste soldi, ma all'incirca solo i due o trecento euro avevamo di fondo cassa. Si presume che sia sopra a un mille, mille e cinquecento euro. Ma i danni, più che altro, i danni strutturali, che ha subito la struttura, perché tutte le porte rotte, ma anche tutti i registri conservati all'interno, registri anche soci e convegne belle, che sono tutti manomessi. Noi abbiamo avvisato le forze dell'ordine, subito la polizia, ho avvisato anche l'altro socio, perché io sono rappresentante dell'acqua via Noto Tero, ho avvisato anche l'altro rappresentante della Rarinante Stermo, per venire più presto per vedere, per fare la denuncia. Sono intervenuti anche la polizia, più i vigili urbani per poter fare il sovrallocco. Però hanno portato anche la, con scasso hanno portato via anche la cassaforte, dove non c'avevamo niente, pochi spicci, diciamo 20-30 euro, così di monetine che conservavamo. E più hanno molato da parte, nella sala bar, un contenitore cambia soldi, che era, diciamo, forse, non so, quando ci poteva stare, questo lo può quantificare soltanto il gestore Mazzarulli. restiamo alla pagina di cronaca per dire della sedicenne di Silvi, che è in prognosi riservata nel reparto di reanimazione dell'ospedale di Pescara e altre due ragazze, un'altra sedicenne e una diciottenne, sono in condizioni meno gravi e ricoverate dall'ospedale di Atri. E il bilancio drammatico del ribaltamento di un'utilitaria avvenuto ieri sera in via Gran Sasso nella frazione di Pianacce di Silvi. Stando alle informazioni raccolte, l'automobile, condotta dalla maggiorenne, su cui viaggiavano anche due sedicenni, avrebbe prima sbandato e poi sarebbe ribaltata a causa di un cordolo finendo in un fossato. La minorenne sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo riportando gravissimi traumi toracici e al fegato. La fortuna che aveva cercato nel bingo lo ha abbandonato all'uscita della sala scommesse quando ha trovato i carabinieri che con un normale controllo di routine hanno messo fine alla sua latitanza che durava da oltre un anno. Spetim Preza, 43enne, disoccupato albanese aveva fatto perdere le sue tracce all'indomani della sentenza definitiva in Cassazione con cui veniva condannato a otto anni di reclusione per spaccio continuato in concorso di sostanze stupefacenti reato commesso nel 1999 nelle Marche dalle province di Fermo e Ascoli Piceno. Lo straniero era in compagnia di una donna e all'uscita della sala giochi di Corropoli è stato fermato dai carabinieri di una pattuglia del radiomobile della compagnia di Alba Adriatica diretti dal capitano Raffaele Iacuzio e dal luogotenente Luigi Colazzo ha esibito il suo passaporto ma il controllo sulla banca dati ha svelato la sua posizione irregolare Prezza fino ad oggi si è rifugiato nell'abitazione del fratello a Martinsicuro conducendo una vita lontana da occhi indiscreti senza però disdegnare ogni tanto una capatina al bingo per tentare la fortuna che stavolta però gli ha decisamente voltato le spalle. torniamo al comune di Teramo nella politica tutto risolto nella crisi di maggioranza al comune dopo i tuoni della scorsa settimana per la presa di posizione del gruppo consigliare al centro per Teramo l'incontro di stamani con il sindaco Brucchi sembra abbia riportato il sereno con l'intesa di una maggiore spinta nell'azione amministrativa ma soprattutto per un riavvicinamento del palazzo comunale alla sua città ascoltiamo il capogruppo Angelo Puglia E' stato un incontro ai ferricorti o un incontro tutto sommato distensivo? Ma intanto vorrei dire che la nostra iniziativa ha sordito il suo effetto quindi di questo siamo contenti perché finalmente al centro del dibattito politico ci sono tornati i problemi della città di Teramo L'incontro è stato leale corretto e trasparente noi abbiamo rappresentato quello che abbiamo sentito in questi giorni prima di fare questa nota ed è quello che c'è una frattura tra il palazzo di città e il territorio e questa frattura va sanata Questo è il primo problema che avete segnalato poi? Sui temi importanti sui recuperi urbanistici sui grossi interventi che ci aspettano parlo dell'area stadio parlo dell'area ferrovia ecco di questi temi qua anche l'ex manicomio in questo momento manca un'idea progettuale di tutta la città che porti ad aprire questo dibattito Giunta deleghe rimpasto di giunta? No questa è una prerogativa del sindaco che dovrà fare la sua sintesi chiesto di ridurre il numero degli assessori? No noi non abbiamo chiesto niente Come vi siete lasciati? Ci siamo lasciati bene ci siamo lasciati molto propositivi anzi a me è fatto piacere anche che il sindaco si è dimostrato molto sensibile sul discorso fiscale che avevamo iniziato La TEAM è la posizione del vostro tra virgolette presidente Mattucci? Ma no sul discorso TEAM in particolare non siamo entrati siamo entrati sul discorso generale della politica dei rifiuti dove noi abbiamo ribadito la nostra posizione cioè quella di creare una società forte ma che non sia una società solo di servizi ma anche una società dove vengono messi dentro gli impianti perché pensiamo che nel prossimo futuro la differenza la faccia proprio questo cioè una società che riesca a gestire sia i servizi ed avere gli impianti Pubblico o privata? Ma pubblico o privata alla fine non è questo la fase importante la fase importante è creare una società che riesca a stare in linea con i tempi e tenga la tariffa bassa Torniamo ancora sulle vicende della Teramo Ambiente perché il Partito Democratico torna all'attacco sulla necessità di una nomina di genere nel Consiglio di Amministrazione della Municipalizzata in queste ore al centro della polemica anche per le vicissitudini vissute dal presidente nell'ultima riunione dell'esecutivo ad attaccare il segretario dell'Unione Comunale di Teramo Maurizio Angelotti che sottolinea l'irregittimità del Consiglio di Amministrazione già segnalata con una diffida dal Dipartimento di Parità per inapplicazione della legge Golfo a nulla sono valse tutte le segnalazioni e le proteste provenienti da più parti politiche sostiene Angelotti per far sì che nel Consiglio entrasse una donna perché la legge impone una quota di almeno un terzo per ogni genere secondo il Partito Democratico questa situazione è illegittima e inficia tutti gli atti promulgati da questo Consiglio di Amministrazione si legge nella nota composto da soli uomini Consiglio che verrà sciolto dal Dipartimento pari opportunità se il Sindaco non provvederà alla rimodulazione torniamo alla cronaca perché era cieco veramente non aveva truffato lo Stato fingendosi invalido e la pensione che aveva percepito negli ultimi 20 anni rispettava e dunque rispetta ancora si è chiusa con un'assoluzione piena perché il fatto non sussiste il processo a carico di un ottantenne Teramano finito nei guai nel 2012 dopo alcuni accertamenti della Guardia di Finanza Palmino Chiappini questo è il nome dell'accusato ingiustamente è stato accusato di truffa aggravata da parte della Procura di Teramo che sulla base degli elementi investigativi raccolti in alcuni mesi di indagini dalle fiamme gialle aveva anche chiesto ed ottenuto il sequestro di 76 mila euro sui conti dell'anziano il suo legale l'avvocato Renzo Isabatino ha spiegato invece come due commissioni compresa una dell'Inps degli anni 90 avessero certificato la disabilità di Chiappini da qui la soluzione è la restituzione della somma sequestrata e adesso l'ANAS ci avverte attenzione sulla Teramo Mare perché dalle 9 di martedì alle 17 di venerdì 30 gennaio sul tratto Teramano della Teramo Mare sarà istituito il restringimento della carreggiata in direzione Giulianova per consentire l'installazione delle barriere di sicurezza al confine tra l'area di servizio Terra Bianca e la Statale 80 all'altezza del chilometro 1 più 800 da parte della società di distribuzione di prodotti di Petro Rifri partiranno lunedì prossimo e dureranno circa un mese i lavori di via Treviso a Giulianova Lido l'inizio dell'intervento e non è una battuta è stato è stato praticamente deciso dal macellaio che ha la sua attività proprio in via Treviso vediamo il macellaio ha deciso i lavori in via Treviso a Giulianova Lido partiranno lunedì prossimo 19 gennaio del resto il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro lo aveva detto a chiare lettere nel dicembre scorso e lo ricorda ora nell'annunciare l'inizio dei lavori su via Treviso per lunedì prossimo avevo preannunciato a detto Mastromauro che i lavori sarebbero partiti a gennaio 2015 pur potendo aprire il cantiere già a dicembre dopo aver approvato il 21 novembre scorso il progetto definitivo esecutivo e ciò non solo per venire incontro alle esigenze del proprietario dell'attività commerciale che insiste sulla via dunque il macellaio ma anche per evitare disagi in occasione del concerto di Fabio Concato del 27 dicembre scorso al Palacastrum e di altri eventi sportivi programmati nell'impianto quindi dice soddisfatto Mastromauro l'impegno è stato rispettato i lavori per una spesa ammontante a circa 100.000 euro prevedono il preliminare abbattimento dei pini esistenti le radici dei quali alzandosi hanno divelto le mattonelle dei marciapiedi e creato piccoli ma pericolosissimi rialzamenti lungo il manto stradale se avessimo tagliato semplicemente le radici ragguaglia l'assessore a lavori pubblici di Giulianova Nello di Giacinto avremmo determinato l'instabilità dei pini con il rischio di crollo dunque occorrerà rimuovere pini e radici tramite uno scavo di sbancamento profondo circa 50 centimetri su tutta la sezione stradale poi i pini abbattuti verranno sostituiti con altre essenze prunus o tigli che non creano gli stessi problemi al fondo stradale e ai marciapiedi con le loro radici verrà quindi demolito il marciapiede esistente e sostituito con uno nuovo mentre la sede stradale dopo la realizzazione di idonea massicciata di sottofondo avrà un nuovo manto di asfalto i lavori dovrebbero essere ultimati entro 30 giorni il nuovo presidente del collegio degli infermieri professionali della provincia di Teramo è Cristian Pediconi è stato nominato all'insediamento del consiglio direttivo all'esito delle elezioni indette tra gli oltre 2.200 infermieri della provincia e resterà in carica per il triennio 2015-2017 Pediconi sarà affiancato dal vice Roberto Di Mattia dal segretario Lorena Rocchetti dal sesoriere Pasquale Lisciani da un consiglio composto da altri 11 membri il collegio sindacale è presieduto da Luca Luzio il nuovo direttivo ha già organizzato incontri di confronto con gli iscritti nei quattro presidi ospedalieri dell'Asi di Teramo il primo si terrà lunedì all'ospedale di Giulianova il secondo il 30 gennaio al Mazzini di Teramo il 24 gennaio dalle 16 alle 19 si terrà l'open day del liceo coreutico annesso al convitto nazionale Melchiorre Delfico di Teramo per accogliere gli studenti delle scuole superiori secondarie di primo grado scusate e le loro famiglie si ricorda che l'istituto organizza anche un ciclo di lezioni gratuite di danza classica e contemporanea propedeutica all'esame di ammissione al primo anno il calendario delle lezioni è consultabile sul sito web dell'istituto e domani presso la parrocchia della Madonna della Salute alle 15.30 in via Micozzi a Villa Mosca si terrà l'inaugurazione del campo di basket pallavolo intitolato a Don Giovanni Saverione che fu il primo parroco della comunità parrocchiale della Madonna della Salute oggi è Sant'Antonio chiudiamo questo silenzio la tradizione rispettata una manifestazione partecipatissima quest'anno si perché noi ci teniamo a queste cose a queste tradizioni io dico la tradizione nella devozione quindi cerchiamo di portarlo avanti perché non dobbiamo dobbiamo trasmettere anche questi valori che sono ancora più attuali oggi perché gli animali sono animali da compagnia è un sollievo anche per chi sta solo e quindi cerchiamo veramente di mantenerla questa tradizione la terra monostra ci tiene in particolar modo insieme agli alpini insieme a tanti quest'anno abbiamo coinvolto tante scuole la scuola San Berardo quindi ci fa immensamente piacere che la tradizione venga seguita agli abruzzesi piace poco leggere da una indagine in stat emerge infatti che due terzi della popolazione non ha letto nel 2014 neppure un libro servizio due abruzzesi su tre non leggono libri è quanto emerge da un'indagine dell'istat secondo cui in abruzzo nel 2014 il 62,6 della popolazione di 6 anni e più cioè 796.000 persone non ha letto libri mentre solo il 34% ovvero 432.000 persone ha letto contro la media nazionale del 41,4% il 17,2% il 17,2% cioè 218.000 persone ha letto da 1 a 3 libri l'8,5% ossia 107.000 persone da 4 a 6 il 5,1% 65.000 persone da 7 a 11 e il 3,2% 41.000 persone 12 o più il 7,9% della popolazione cioè 100.000 persone ha letto o scaricato online libri o ebook il 15,5% delle persone che hanno usato internet ha letto o scaricato online libri o ebook il 3,9% della popolazione pari a 49.000 persone ha ordinato o comprato libri o ebook su internet il 24,2% delle persone che hanno comprato beni e servizi su internet ha ordinato o comprato libri o ebook sul web in Abruzzo nel 2013 c'erano 29 editori attivi di cui 18 piccoli 10 medi e uno grande il totale sale a 34 considerando i 5 editori con produzione nulla degli editori attivi 13 sono nel Chietino 9 nell'Aquilano 5 nel Terramano e 2 nel Pescarese che tempo farà in questo weekend? vediamolo attraverso il servizio curato da meteotermo.it Previsioni per oggi in Abruzzo al pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sui massicci appenninici poco nuvoloso sulle aree orientali nevicate al di sopra dei 1900 metri inserate nella notte variabile con deboli rovesci di pioggia sui settori interne e sui rilievi moderatamente nuvoloso sui settori marittimi temperature stazionarie massime comprese tra 10 e 13 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 16 e 19 gradi sulle pianure adriatiche venti deboli o moderati meridionali mare quasi calmo in provincia di Teramo al pomeriggio parzialmente nuvoloso su gran parte del territorio provinciale inserate nella notte variabile con deboli rovesci di pioggia sulle zone interne e sui rilievi poco nuvoloso sulle zone marittime temperature stazionarie massime comprese tra 14 e 17 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 16 e 19 gradi sulle coste venti deboli meridionali mare calmo quasi calmo per la pagina sportiva come consuetudine scusate con la lega pro questo weekend nel girone B è in programma infatti la seconda giornata del girone di ritorno vediamo quali sono gli incontri in calendario l'Aquila Ascoli si sta per giocare in questi minuti così come Lucchese Gubbio San Marino Pontedera Tutto Cuoio Prato Forlì Propriacenza Pisa Sant'Arcangelo Pistoiese Carrese Spal Savona Grosseto Teramo Ancona Reggiana con le gare distribuite ovviamente nelle due giornate di oggi e di domani come detto il Teramo giocherà domani pomeriggio a Grosseto in Maremma Mister Vivarini dovrà rispondere alla senza degli infortunati Lughi e Serraiocco il primo alla pubalgia il secondo invece un fastidio al ginocchio problemi di abbondanza ci sono invece in difesa dove il tecnico deve risolvere due ballottaggi tra Caidi e Diachite al centro e tra Masulo e Di Matteo sulla fascia di sinistra sull'impegno seguiamo questo servizio il Teramo continua il suo tour de force e dopo aver tenuto testa ad Ascoli e Pinsa si appresta ad affrontare ben quattro trasferte nelle prossime sei gare il primo match esterno è quello in programma domani pomeriggio sul difficile campo di Grosseto un avversario che Mister Vivarini presenta così noi adesso incontriamo il Grosseto che è un'altra grossa squadra una piazza importante con giocatori importanti perché sono giocatori che hanno ben fatto negli anni precedenti Grosseto che in settimana ha cambiato per la seconda volta allenatore i Toscani infatti hanno esonerato Padalino affidando la loro panchina all'ex Aquilano Paolo Stringara un problema in più almeno dal punto di vista tattico per il Teramo noi lavoriamo molto diciamo sugli atteggiamenti della squadra avversaria sulle giocate della squadra avversaria è chiaro che ci sarà una preparazione della partita più impostata sulle nostre cose perché ci dobbiamo aspettare che Stringara sicuramente farà delle modifiche farà cambiare atteggiamento che potrebbe essere più aggressivo potrebbe essere un po' più difensivo quindi bisogna andare a leggere immediatamente la partita per cercare di non essere impreparati magari a quello che potrà dire in una settimana Stringara le formazioni out per infortunio sono Lulli e Serraiocco convocati invece tutti gli altri il tecnico bianco-rosso quindi ha problemi di abbondanza in difesa dove ci sono due giocatori che scalpitano per un posto da titolare c'è il rientro di Diagite e poi bisogna sottolineare anche l'importanza della partita di Luca di Matteo contro il Piz quindi questi sono due dubbi che ci portiamo dietro fino a domenica per il resto insomma la squadra sta bene quindi questi sono problemi di abbondanza quindi è una cosa positiva l'arbitro Teramo Grosseto sarà diretta da Andrea Tardino di Milano 32 anni di professione preparatore atletico Tardino ha il quarto anno nella Campro e finora portato a termine 51 incontri con un bilancio di 24 segni 1 16 X e 11 2 a due precedenti con il Diavolo nel 2010-2011 Atletico Trivento Teramo finì 0 a 0 mentre nel 2012-2013 Teramo Martina Franca si concluse con un secco 3 a 0 il Teramo è molto interessato alla partita che sta per iniziare proprio in questi minuti al Fattori dell'Aquila dove c'è la capolista Ascoli capolista incontrastata del Girone vi ricordiamo che potrete seguire il servizio su questa partita nel corso dell'edizione serale di questo TG alle 19 e 15 weekend denso di appuntamenti anche per le formazioni giovanili del Teramo Calcio oggi nell'anticipo del sabato scende in campo la Berretti che al Bonolis riceve la vista della Forte Lucchese il fischio inizio è previsto per le 14.30 domani poi sarà il turno degli allievi e dei giovanissimi nazionali i primi saranno di scena a Marcianise contro il fanalino di coda Casertana i giovanissimi alle 11 di domani al Bonolis giocano il derby con la Delfino Pescara passiamo adesso al Serie D dopo le polemiche che hanno caratterizzato gli ultimi giorni Celano e Chieti si incontrano domani nell'unico derby tutto abruzzese previsto dal calendario avversari e marchigiane invece per Giuliano e San Nicolò i giallorossi Alfadini ospitano la Samb Biancazzurri invece di scena a Iesi il servizio sono tanti gli spunti di interesse offerti dalla seconda giornata di ritorno che si gioca domani pomeriggio nel girone F di Serie D il match clue Celano Chieti un derby nel quale ci sono in palio punti importanti sia in chiave playoff che in chiave playout partita sentitissima soprattutto a causa delle polemiche che in settimana hanno visto protagonisti l'uno contro l'altro i due club abruzzesi polemiche nate in seguito all'intervista rilasciata domenica scorsa da Pasquale Luiso che aveva accusato il Chieti di scarso impegno nella sfida con il Termoli dichiarazioni che sono state riprese dalla società neroverde che poi ha presentato un esposto alla procura federale alla luce di questi screzzi la gara in programma al Piccone potrebbe essere molto spigolosa un altro incontro che almeno sulla carta si annuncia molto combattuto è Giulia Nova San Benedettese si affrontano due squadre bisognose di fare punti i giallorossi di Francesco Giorgini reduci dal buon pari strappato in estremi sarrecanati devono vincere per uscire dalle zone basse della graduatoria mentre la Samb non può concedersi altri passi falsi se vuole centrare la promozione diretta in Lega Pro impegno è in trasferta per l'altra teramana del raggruppamento il San Nicolò che è di scena sul difficile campo di Esi Biancazzurri e Leoncelli si trovano appaiati in una posizione di classifica assolutamente tranquilla e per questo potrebbero affrontarsi a viso aperto senza ricorrere a particolari tatticismi più complicato invece il match che attende la Miternina gli Aquilani ospitano un campo basso che ha il morale a mille per la vittoria ottenuta mercoledì scorso nel recupero del derby con il Termoli ma i ragazzi di Mister Angelone non possono fallire perché rischiano di essere risucchiati nel gruppo delle pericolanti l'imperativo dei giallorossi perciò è uno solo conquistare i tre punti per scacciare ogni paura passiamo alla palla a mano perché tutte e quattro le formazioni terramane scenderanno in campo in questo weekend in Serie 1 femminile il match più importante è quello della Globo Allianz Teramo che è impegnata sul parquet della squadra campione d'Italia Loiomi Salerno con una vittoria le ragazze di Settimio Massotti si guadagnerebbero la matematica a salvezza e di conseguenza anche la qualificazione alla fase dei play-off in Serie 2 femminile il team Teramo invece è impegnato in trasferta sul campo del fanalino di coda del Girone il Flavioni Civita Vecchia in Serie B maschile invece appuntamento da non perdere al pala Giorgio Bicchi dove questo pomeriggio alle 18.30 è in programma il derby tutto terramano tra team Teramo e Lions Teramo Calcio a 5 giornata ricca di impegni anche in questo campionato match sulla carta proibitivo per il Cus Teramo fanalino di coda del Girone i biancorosi sono di scena sul parchè del Palaroma di Montesilvano dove affrontano la terza forza del torneo il Real Dem per quanto riguarda le altre terramane del gruppamento l'Atletico Silvi gioca in trasferta a San Salvo contro Roll Games mentre la capolista Gymnasium Audax Atria riceve la vista del Tollo tutte le gare si giocano questo pomeriggio con inizio alle ore 15 in chiusura vi ricordiamo la programmazione sportiva prevista da Teleponte per domani domenica 18 gennaio si comincerà alle 9 con la rassegna stampa di Buongiorno Abruzzo alle 15.45 poi sarà la volta di Studio Stadio tutti pazzi per il Teramo con aggiornamenti in diretta sull'andamento del match di Lega Pro Grosseto Teramo e sulle gare che vedono impegnate le squadre di Serie D della nostra regione infine alle 19.30 andrà in onda come di consueto Game Over nel corso del quale vi mostreremo tutti i servizi di questo lungo weekend calcistico con la conduzione di Luigi Aurelio Pomante io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro la più cordiale buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti